appunto la valorizzazione del territorio rurale e prodotti agroalimentari regionali per selezionare quello che doveva essere il progetto vincitore. Poi è successo durante i lavori che siamo arrivati da 15 a 7 lavori e poi insomma di questi 7 ce n'erano 2 che in particolar modo ci sembrava rappresentassero questa vocazione appunto alla valorizzazione del territorio rurale delle produzioni agroalimentari abbiamo poi deciso di portarli avanti insomma entrambi a pari merito quindi per la sezione valorizzazione prodotti agroalimentari i due progetti vincitori sono cento orti e venti mulini e mi presento sono paesaggio. Ci è piaciuto particolarmente ci ha colpito come assessorato agricoltura il coinvolgimento in entrambi della cittadinanza su temi che non sono insomma propriamente di interesse così subito insomma l'agricoltura i prodotti agricoli però tutti e due questi progetti hanno appunto l'intenzione con varie iniziative mostre eventi di coinvolgere e anche durante insomma il percorso coinvolgere la cittadinanza ma anche per esempio come esperti gli agricoltori gli allevatori chi ha un orto nelle vicinanze che produce prodotti che per esempio nel caso del progetto cento orti e venti mulini era o è tuttora irrigato dalle acque del canale di questo canale dei mulini che aveva certe caratteristiche iniziali che poi nel tempo è molto cambiato si indaga per esempio ci è piaciuto molto l'idea di indagare la storia di questi mulini che c'erano non ci sono più e quindi in sostanza ci ha molto colpito per quanto riguarda cento orti e venti mulini l'idea di reinterpretare il bene culturale ma alla luce anche della vocazione agricola del territorio questo scusate non l'ho specificato è un progetto che si realizza nel territorio di Imola è presentato dall'archivio del consorzio di miglioramento fondiario degli utenti di Imola e Massa Lombarda e dall'istituto comprensivo 7 di Imola oltre ad altri partner come insomma in molti progetti sono presenti numerosi altri partner per quanto riguarda mi presento sono paesaggio siamo invece nel territorio di Pennabilli quindi provincia provincia di Rimini il progetto è presentato dal museo naturalistico CEAS dell'ente parco Sasso Simone e Simoncello dall'istituto comprensivo Livieri di Pennabilli sono sette classi di una scuola media inferiore e oltre anche qui a numerosi partner locali e qua ci è piaciuto molto l'idea del progetto di valorizzare il patrimonio rurale del parco con tre chiavi abitare mangiare e lavorare dove nel tema del mangiare soprattutto la produzione agricola è molto importante e in particolare qui ci è sembrato interessante anche il coinvolgimento la presenza insomma il coinvolgimento diretto attivo del CEAS centro educazione della sostenibilità insieme alla scuola è un obiettivo che noi cerchiamo da tempo di perseguire quello di far lavorare insieme delle realtà del territorio come appunto i centri insieme alle scuole insieme alle fattorie vedremo nel pomeriggio per esempio che sono state coinvolte fattorie didattiche in modo che ci sia veramente un apporto di tutti i soggetti che possono dare un grande contributo alla valorizzazione del territorio e per quanto ci si riguarda del territorio rurale delle produzioni agroalimentari grazie grazie grazie